Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare in compagnia di Joe97 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa Cos'era? Vabbè comunque oggi come avrete letto dal titolo siamo sulla Pokemon Poison Challenge Attenzione Non so neanche quale sarà il titolo in cui dovremo nominare 59 Pokemon di tipo veleno presenti all'interno dei giochi Pokemon E nulla nello scorso video sul canale di Joe che abbiamo fatto sul tipo elettro non siamo andati malaccio effettivamente No dai guarda che per me sono stati anche bravi Ci siamo piaciuti Bravini abbiamo messo gli schifosi Oggi vedremo cosa riusciamo a fare quindi direi di cliccare subito il tasto play Joe ce l'hai la schermata con i tuoi Ce l'ho ce l'ho sono pronto Allora play benissimo Allora Si si è iniziata Venusaur Bulbasaur Bulbasaur L'altro cos'era? Ivisaur Ho sconvolto la catena evolutiva Eh Cater Cater Perché non mi prende Caterpie? Caterpie non è tipo veleno E Widdles Minchia stavo già pensando ai Coleotteri che idiota Widdles Cacuna e Beedrill Widdles Cacuna Beedrill E già sulla prima gen spacca Poi Ekans Arbok Justice E Arobok Cazzo scritto Aspetta Arbok Aspetta Vai il plume Vai il plume Bravissimo Oddish Oddish Blume Oddish E Victribal A sto punto No Victribal è tipo veleno Si 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 Come del resto Whipping Bell Che ho scritto con una O Ok Però Bell Sprout No pure Bell Sprout invece L'ho scoperto adesso L'ho scoperto adesso che l'ho messo Che giuro E metti Wheezing Koffing Uh giusto Wheezing Koffing Quindi anche Grimere Mac Bravissimo Sai cos'è La Ma Ma sono in ordine di No che non sono in ordine di generazione Eccola la La trollata Cazzo Mi stanno finendo Koffing e Wheezing A fine lista Ah Infatti è un po' strano Veleno terra Vedo Il numero 34 Veleno terra Che cazzo è veleno terra Che veleno terra Eh boh Allora Vabbè aspetta Gengar Ecco bravo Gengar Come si chiama Oddio Ghastly Mi stava venendo Un vuoto Metti Gudra No Gudra No Gudra Gugra Dragalge Dragalge Ecco bravo Dragalge Poi metti Masklerp pure Sai che non so Chi cazzo sia E' quella prima di E' quella prima di cosa Di Dragalge Ah Possibile Non mi ricordo Ma non so come si scrive Vabbè Oddio come si chiama Minchia Aspetta Chi è di buio veleno No aspetta Buio veleno Drapion Bravo Drapion E Scorupi Scorupi Penso sia un veleno Finchè scrivo Scrupi Scorupi Non so neanche dove mi è finito Ok è veleno bug Ah sai chi c'è anche Scuntank Bravo E anche Scunti Scunti Stunky Come cazzo porca Stunky Comunque signor Rimè non vedete la facecam Perché non so registrarla Ciao Ehm Aspetta Veleno volante Non esiste Perché è veleno volante Non c'è un veleno volante Figa Non mi ricordo mica Tentacool Bravo Tentacool 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 Ehm Perché non mi viene in mente Nessuno No ascolta Veleno volante Sono abbastanza sicuro Che non è di cazzare Veleno volante Sul serio Per me non esiste E ci sono così tanti Ci sono così tanti Veleno erba Cioè Io Gli ho già fai Non c'è Veleno erba Cazzo c'è Voi come ti veleno Ah Roselia Roserade No Sì 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 Tutta la vita Roselia Roserade E anche lo stronzo Di Budu 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 Se non me l'avessi detto Tu l'avrei lasciato Nei tipo fuoco L'avrei lasciato Poi metti Aspetta Uh uh Krogank Krogank Bravo Ah Come cazzo Abbiamo fatto Zubat Zubat Golbat E Krobat Golbat Krobat Perfetto Ah eccolo Il veleno volante Cazzo Ah ecco Krobat Vero Che idioti E mo Un altro Un veleno Ah uh Aspetta E Quillfish Come si scrive Ah Q U I L Purtroppo Non è così Semplice Eh no Aspetta Ah era perché c'è una W Quill Bravo Fish Perfetto Quanti mi hai? 37 su 59 Mancano 3 minuti e mezzo Ok 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 Calma Merda Livanni No Scoliped Bravo Scolipede Tipo Volante No Tipo lotta Crogan che cosa Gio ci ha messi Ah Gio ci ha messi Gio ci ha messi Come cazzo Si scrive Whirliped Ah Non lo so Quinta gen Non è Roba mia Whirliped Whirlipede Uh l'ho preso Non ci credo Bella Lì Totalmente a caso Madonna ci sono altri insetti stronzi che veramente dimentico Cosa manca dimmi un po' di generazioni dove Aspetta Dustax Bravissimo Doostox Non ci sarà anche Warpol No vero No 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 Ah perfetto No 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 Secondo a seconda gen Seconda gen secondo me manca qualcuno per forza Eh manca qualcuno chi Per me non manca nessuno Di prima possibile che sono così pochi Mi sa di si però Cosa c'è in terza? In terza non abbiamo Ah in terza gulpin e la sua evoluzione Sualo Minchia gulpin sualo Difficile questa Questa non l'avrei presa mai E in mezzo c'è un altro Prima della Prima della quarta gen Ce n'è un altro di terza Mi sa Eh Aspetta Aspetta Zualot Cazzo Forca tre Chi c'è? Eh Sarà sicuramente un cancro schifoso Che nessuno conosce una merda epocale Sicuro Eh Aspetta Aspetta Figura Tiado e non c'è neanche un capopalestra di veleno Ce ne avrà nessuno sto Pokémon Sicuro Eh Manca un minuto e 47 Cazzo Ma che vediamo? Ziki Bug Bug Un Poison bug Uh Ariados Bravissimo Ariados Spina Spina Rak Mi mancano altri bug Poison Che non lo so Io non li ho mai presenti questi Forse no Sicuramente qualcuno di Sesta Gen che è ovvio che ci stiamo dimenticando Vabbè per forza Ehm Grass Veleno erba Chi c'è veleno erba Ma vaffanculo Parasect Ah Vaffanculo Come si scrive par No aspetta No cazzo Non è veleno Non è veleno Parasect Non è veleno Parasect Nessuno Quarta Gen No Prima Gen Perché a quarta Cazzo sto dicendo Creepy sveglia Drogato Ehm Capopalestra Di veleno Non ce ne sono Di capi palestra Di veleno Solo kogan Li venni Non era Eh no infatti Che non era No Ti avevo pensato Però Soak Trono Lo so Chi No Cristo Dio Quanto manca 6 5 secondi Eh vabbè Sono curioso di vedere la merda sotto suolo Si vai per ma va a cagare No Si vai Zio Nidoran Nidorino Nido Nidoran Nidorino Nido King Che idioti Poi Venonat Venomoff No Ma quanti ce ne sono Tipo quelli Non in prima C'è assurdo Trabish Garbodor Vabbè Fongus Amongus Screlp Che non riuscivo a scrivere Che scrivevo Scelrp Tipo Non E poi Ne abbiamo fatti Ne abbiamo fatti 45 su 59 Che in rapporto a quell'altro Ci sta A fine conto Dai non è male Poteva andare peggio Dai Quanti Quanti ne abbiamo perso 14 ne abbiamo perso Su 45 Vabbè raga Ci può stare Abbiamo fatto 76% Tu hai visto prima da te Quanto abbiamo fatto No perché avrei chiesto Avevo fatto No avevo fatto tipo 82% Eh dai buono ci sta raga Considerando che Considerando che in entrambe le categorie Ci sono cancri impressionanti Ci può stare Esatto Ma come abbiamo fatto Di un cane Nido King Sì no Più che altro quelli Gli altri erano dimenticabili Quelli non Ecco il ground Stronzo È vero È vero Cristo Dio Non ci ho pensato Vabbè comunque Signori miei Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Passate dal canale Di Gio Per vedere Lo scorso Cioè non lo scorso Episodio L'episodio Complementare Che abbiamo fatto Che abbiamo fatto Sul suo canale Iscrivetevi A entrambi i canali Passate da entrambi I social Dei rispettivi Personi Anche il gruppo Telegram Come al solito Mi raccomando Il gruppo Telegram Importante Perché Esattamente Esattamente Poi ne porta diverse Quindi Va a puntate Diciamo Cosa cazzo sto dicendo Esatto Vabbè insomma Dai noi ci becchiamo In un prossimo video Ah no Fateci sapere Se questo genere di video Vi piace Che magari ne porteremo Di diverse Di queste challenge E nulla Noi ci becchiamo In un prossimo video Ciao